ciao a tutti oggi è domenica 18 giugno 2023 allora volevo fare una panoramica rapida dei piccoli frutti di come sta andando la legagione che la fioritura sta finendo eccetera allora vedete c'è ancora qualche fiore nelle more però la maggior parte sono già sfiorite stanno già legando i frutti vedete non so se avete visto i video precedenti abbiamo diverse varietà qui tra cui chester torn free lockness tupi locktie eccetera per dire vedete queste queste qua adesso non mi ricordo se credo che sia lockness lockness è la prima a fiorire vedete è già più avanti sono già rosse ok mentre le altre sono un pochino più indietro vedete ce ne sono ancora verdi vedete e poi abbiamo altre tipologie qua questa qua è la theodore rams una cosa del genere vedete li fa più piccole spinose però ne fa un sacco vedete questo il fiore ancora vedete molto spinose l'ho già potate e ci sono già ricacci nuovi vedete questi qua sono piccoli dopo il rifilo a 1 70 così vengono il rifilo questi qua devono ancora sbocciare perché questa è una fioritura molto scalare ho visto e anche la produzione vedete questo credo che sia torn free che sono più grandi vedete dopo quando arriva una certa altezza con la forbice tagliamo tagliamo le punte in modo che così li blocchiamo un po la crescita e ricaccia un po i rami in basso perché non interessa già le more raccoglierle a in basso non a 10 metri poi non bisogna lasciare di tanta tanta vegetazione così fa meno ma queste cose un piante più giovani vedete ne hanno meno questa qua credo che sia sempre l'ocnes se non erro si vedete ho sempre le mie bellissime etichette ok vedete poi si conoscono un pochino guardando le vedete questo ma sono rosse perché sono già più avanti eccetera e vabbè qua ci sono dei lamponi ce ne sono tante varietà certe sono già i frutti stiamo già raccogliendo la veronica li sta raccogliendo li stiamo già mangiando vedete le more sempre le spuntiamo a 1 70 1 80 questo qua invece sono le ceste sono più piccoline fioriscono dopo e maturano dopo qui siamo un pochino più in ombra vedete però vedete che ricacci guardate sono ricacci nuovi sempre spuntati eccetera dopo li leghiamo li teniamo legati vedete qua è legato leghiamo alla rete perché qua non ho messo i figli ancora adesso non so se li metterò perché la parte esterna alla recinzione questo qua è sempre cesta questi qua sono i ricacci di cesta vedete belli grossi città qua c'è la veronica col cane e allora facciamo un altro giro per vedere le more questo qua un altro piccolo filaretto di more qui abbiamo i tutori trovate un video sul canale di come di come ho fatto un filare che questo qua l'ultimo su quello fatto l'anno scorso trovate il video qui sul canale per che spiego un po come fatto eccetera quindi non mi dilungherà tanto vedete comunque la legagione è stata ottima chiaramente non matureranno tutto una parte matureranno una parte seccheranno dopo quale ce ne sono delle alte ma sono più piccoline e lì abbiamo dei lamponi vedete la una mora eccetera qui avevo le cipolle lo raccolte dopo andrò a zapparci ci metterò un'altra cultura eccetera e qui sono a un altro un altro filare di more queste qua sono state messe prima nel senso sono state messe a dimora prima delle alte queste qua sono tutte cesta le prime due no questa è una triple crown vedete ha una ramificazione diversa le more sono un pochino più allungate e queste qua sono cesta piccoline e in mezzo ci sono i kiwi che adesso devo andare a potare sono gelati non hanno una bella cera e queste qua sono queste qua sono le ton free credo che siano io credo che siano ton free perché me l'hanno vendute l'ho preso subito e non ho la varietà ma comunque guardando su internet dovrebbero essere quelle vedete hanno ancora qualche fiori sono belle queste queste qua ci hanno i bel ricacci fanno un sacco di more belle questi qua vengono belle grandi molto buone allora poi qui in mezzo invece abbiamo i lamponi la veronica dopo li deve ancora raccogliere ce ne sono diverse varietà qui c'è un po di more e ci sono diverse varietà unifere e alcune altre rifiorenti vedete come sono cresciuti questi sono i ricacci nuovi di quest'anno vedete come crescono questa qua per dire credo che sia rifiorente perché c'è i fiori su vedete e questo qua è il ricaccio del dell'anno di quest'anno quindi lì in cima andrà ad allegare i lamponi vedete questi quali sta già legando su un ramo del di quest'anno vedete c'è già i lamponcini mentre le unifere producono chiaramente solo sul ramo vecchio vedete questa qua questa qua credo che sia un'unifere perché non ha fioritura nel ramo nuovo e queste qua ai ai lamponi sul ramo vecchio vedete questo è il ramo vecchio e qua ci sono i lamponi tante varietà vedete tanti ricacci un po li ho tolti ho fatto altre piantine le ho già messe a dimora e qui abbiamo vedete questi qua sono molto buoni molto belli vedete anche questi qua sono varietà queste che ma mi ha dato un'amica che provengono dall'est europa non so che varietà siano poi c'è autun bliss questo qua è il questo qua il medana è un ibrido mola lampone più lampone che mola vedete qua ci sono altri lamponi che sono che sono nati dai poloni di questi li ho allevati vicino vicino alla recinzione eccetera poi ci sono degli asparagi spinosi qua c'è della consolida ibrida russa che devo tagliare per fare biodiversità qua c'è tutto il cippato sotto vedete è tutto cippato questo è stato messo quando è stato abbiamo fatto l'impianto e pian pianino sta venendo tutto abbastanza bello adesso vi faccio vedere l'altra parte poi c'è sempre il mio cane con la veronica poi ci sono le delle fragole che ha messo la veronica nelle sue uole che abbiamo preso da francesco sono fragoline piccoline molto buone questo qua invece ha già le more le abbiamo già raccolte già mangiate questo quello tai è la prima che matura da noi poi questo qua invece è la mora tupì spinosa vedete questo qua è un lampone nero ma non so cosa abbia il ricaccio c'era ma non è una bella cea credo che ci lascerà questo qua è ton free vedete che belle more quante una bella pianta vigorosa e poi dentro abbiamo abbiamo altre varietà di lamponi uva spina lampone giallo vedete questo lampone giallo poi abbiamo abbiamo dell'uva spina dei ribes vedete questo qua rifiorente vedete sta per ributtare i fiori ribes qua ci sono nate delle viti queste sono nate delle viti tra le perché il cippato è stato fatto dalla vigna siede con un pezzettino radicato vedete è un'altra navite che poi vediamo se ne bella ne andiamo innestare qua c'è del ribes qua altre more questo qua dovrebbe essere ton free poi dovrebbe esserci questa qua l'hocnes credo che sia dal colore che sono già rosse e poi qui abbiamo altri lamponi questo qua non so che varietà siano ma sono veramente buoni questo qua c'è a ti thomas del forum fruttama ce ne ha mandate che ringraziamo ne avevamo mandato delle more lui ci ha mandato un sacco di lamponi e sono veramente belli vedete buoni poi ci sono nati lamponi c'è della consolida anche qua altri lamponi vedete vedete che belli questi vedete credo che siano uniferi questi però non sono sicuro così qua sono i ricacci cosa questi gialli qua dice la verona che sono molto buoni ce ne abbiamo due varietà alpengold sicuro e l'altra non lo so ah c'è il goccia goccia che sta annaffiando vedete l'abbiamo attaccato prima lo stiamo annaffiando vedete si vede bene l'impianto di irrigazione poi farò un video quando ho tempo perché abbiamo fatto un impianto abbastanza valido e mi piaceva condividerlo con voi e vabbè questa è una parte poi abbiamo altre more nel perimetro esterno però bene o male sono più sono più piccole di queste a questa qua in alta questa qua sarà cosa questa qua credo che sia l'occhio no non so che varietà c'è l'octai questa forse sono già mature probabilmente l'avevo moltiplicata da quella l'octai la sono già mature sono buone qua c'erano dei ribes ma hanno un po di sono affide una bella cera si credo che siano affide e nient'altro vi volevo solo aggiornare sulla situazione dei piccoli frutti di come procedono vediamo un po se vi se piove ancora un po sicuramente verranno belle se no finché c'è acqua cerchiamo di tenerli un pochino bagnati e quello stiamo mangiando a colazione e sul plus lo congeliamo lo mettiamo in freezer per per l'inverno lo mangiamo a colazione di inverno facendo dei sacchettini mettiamo in freezer e poi man mano li mangiamo e nient'altro vi vi ringrazio e se avete qualcosa da chiedere scrivete pure nei commenti o scrivetevi al gruppo di telegram dove potete chiedere informazioni sicuramente qualcuno vi risponderà va bene vi ringrazio e alla prossima ciao 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 ciao